Ragazzi, questa pochette l'ho disegnata io, ok? Per il mio brand di costumi. Siccome ha un successo incredibile, la stanno vendendo da tutte le parti, c'è un'azienda di costumi che ha chiamato e ha detto mandatemi una pochette originale di Yes, così la copio e ne faccio fare prossimo anno. Ma io dico, ma non puoi copiare tutto al 100% deve avere un po' di inventiva, e non ci puoi copiare sempre tutto. Invidiosi, ciao ragazzi. Dal primo settembre, dietro. Bobo Gold fa la dietro. Settembre e autunno. Feels like someone. Feels like someone. Feels like someone. Mentre il sole sale, 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 sale su. E a chi ci vuole male, 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 un ramacu. Da che mi prega me, mi basta che rimani. Io ti ringan. Oh, 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 oh. E andami.